E' arrivata poco prima delle 4 di questa mattina la banchina di riva del porto di Ortona, la nave spagnola Aita Mari, che fa parte del progetto mediterraneo della ONG Basca, salvamento marittimo umanitario. A bordo 43 persone, salvate venerdì scorso, nelle acque libiche, per la maggior parte sono del Bangladesh, tutti uomini e due sono i minori di 15 e 17 anni. E' il settimo sbarco di migranti al porto di Ortona, il primo proprio un anno fa, circa il 24 febbraio del 2023. Le condizioni di salute dei migranti sono buone. Una volta arrivati sono stati trasferiti in contrada Tamerete di Ortona, dove è allestita l'area post sbarco. Solo i due minori resteranno in Abruzzo, in provincia di Pescara, gli altri saranno smistati nei centri di accoglienza del Lazio. Una macchina dell'accoglienza già rodata, possiamo dire. Massimo Montebello, presidente del Comitato di Chieti della Croce Rossa italiana, è già tutto pronto? Sì, sì, siamo riusciti ad allestire tutto nei tempi giusti. Il settimo sbarco, il primo del 2024, ormai la macchina è ben che rodata, quindi siamo al 100% delle nostre esigenze operative. Ovviamente la prassi è sempre la stessa, salgono gli operatori sanitari della medicina trasfrontaliera sulla nave per un primo controllo e poi vengono tutti trasferiti in contrada Tamerete. Sì, sì, la procedura è quella che appena ha illustrato in questo momento. Adesso faranno i controlli, saliranno a bordo i primi otto, di cui hanno due anni delle patologie diverse, quindi abbiamo deciso di isolarle e portarle diversamente su a Tamerete. E poi tutta la procedura a Tamerete abbiamo allestito la struttura, che è allestita per accogliere un massimo di 180, massimo 200 persone. Infatti l'ultimo sbarco è andato annullato perché aveva un numero massimo di 200 persone. Quindi, per ora ci riteniamo soddisfatti della macchina organizzativa. Tutto il coordinamento è della prefettura e ovviamente c'è la Croce Rossa e non solo. Sì, sì, il coordinamento e tutto il controllo sotto la prefettura. Abbiamo, come ho detto l'altra volta, un accordo quadro con la prefettura, ha recepito un accordo quadro con il Ministero degli Interni e Croce Rossa italiana a livello nazionale. È tutto sotto il controllo della prefettura. Ovviamente ci sono le altre organizzazioni, la protezione civile che coordina la parte delle sue associazioni di volontariato. Ci sono il 118 e tutte le altre organizzazioni per far funzionare al meglio l'altra macchina. Siamo con Giuliano, un mediatore culturale che ha scambiato qualche parola con questi migranti. Cosa ci puoi dire? Sono una quarantina di ragazzi bengalesi che hanno delle evidenti difficoltà linguistiche come primo approccio. Tre magrebini che hanno parlato con un altro mediatore di lingua araba. Tutti quanti, tutto sommato, comunque sono in buone condizioni di salute, a parte lo shock del viaggio e del soccorso. Stiamo attendendo anche noi di capire bene le loro situazioni personali, umanitarie. Tanta speranza in loro per una nuova vita. Sì, esatto. Ciò che si legge poi soprattutto negli sguardi appena sbarcano. Trovano noi, trovano accoglienza e quindi gli si accende immediatamente la speranza magari perduta durante il viaggio. Grazie.